Ennesimo incidente mortale sulle strade della marca trevigiana. Questa mattina all'alba, poco dopo le 6 e mezza, un uomo di 58 anni di origini bosniache è stato travolto da un'auto a Mansuet mentre stava attraversando la strada in via Porto Buffolet all'altezza del distributore di benzina energica. Idrit Zamidovic, questo il nome della vittima, dipendente di un'azienda idile della zona, è morto praticamente sul colpo a causa del violento impatto con la Renault Captur guidata da un 73enne di Porcia che si stava dirigendo da Pordenone a Oderzo dove lavora come medico. È stato lo stesso automobilista a dare l'allarme ma il personale medico del suo M118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne. Stando alle prime ricostruzioni pare che l'uomo stesse raggiungendo il bar vicino al distributore per fare colazione prima di andare al lavoro. I carabinieri di Conegliano stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente forse dovuto ad una disattenzione dell'automobilista che non si è reso conto della presenza dell'operaio colpito con il lato destro della vettura. La procura di Treviso aprirà un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale a carico dell'investitore. La strada che collega Mansuet a Porto Buffolet è stata parzialmente chiusa al traffico con conseguenti disagi per studenti e lavoratori. Si tratta della quinta vittima della strada nel Trevisiano dall'inizio del mese di settembre. Idrit Zamidovic lascia moglie e figli che vivono in Bosnia e sono stati allertati in mattinata della tragedia che si è consumata ricevendo anche le condoglianze del sindaco di Mansuet Leonio Milan.